interessante questo articolo pubblicato oggi sul libro che mette a conoscenza del fatto che la corea del nord anche un paese sotterraneo con centinaia di chilometri di tunnel ma è interessante perché questa notizia perché mette in evidenza una cosa che usando un termine del gioco degli scacchi si dice installo ecco mette installo l'america ecco perché qua come parla e si legge appunto sull'articolo nei nella città sotterranea nella seconda corea del nord quella non visibile è un insieme di non di tunnel ma addirittura di vie o viali con fabbriche e tutto quello che serve per sopravvivere ma nello stesso tempo anche per creare come riferisce qua l'articolo armi e missili si certo come come evidente è dal 1950 che hanno iniziato a costruirlo e per cui è fortificato perché in alcuni punti come riferisce è oltre 100 metri sottoterra per cui anche non raggiungibile da bombe o altro per cui indistruttibili essendo anche come si dice rifugi nucleari ecco un articolo che mostra un aspetto diverso nella corea del nord c'è la la sua invulnerabilità o il fatto di non poter essere attaccata e perché questo semplice perché in effetti qualora l'america decidessi di attaccare la corea del nord come ha sempre ultimamente ha minacciato di fare dovrebbe mettere in conto che questa fortezza questa seconda corea non visibile del nord sottoterra avrebbe la capacità nel modo di colpire la corea del sud il giappone e forse anche qualche altro stato nazione e quanti morti creerebbe la risposta della corea del nord a queste nazioni a questi stati e chi accetterebbe di correre un rischio del genere e l'amministrazione americana ecco in un certo senso non è scalcomato all'america ma la mente in una situazione di stallo perché la corea del nord o meglio dire king john un può fare quello che vuole nonostante le minacce le sanzioni che le vengono continuamente fatte come dire senza dimenticare poi la cina che la cina ha uno smisurato desiderio di conquistare il mondo e lo sta dimostrando comprando più più possibile ogni parte del mondo dall'america l'europa come dimostrano infatti tanto è vero che anche la oe sta cercando di fare una legge che possa impedire alla cina di comprare fabbriche come si dice sensibili per i loro dati ma a parte questo fatto si sta già conquistando o comprando l'africa avendo già inviato un milione di operai per la costruzione come ho detto un altro video di ponti strade aeroporti eccetera e per cui come dicevo prima la cina a mire mondiali già oltre un miliardo e 600 700 milioni di persone e forse più già una ricchezza smisurata visto si sta comprando il mondo già soprattutto un esercito potentissimo e in questo caso la corea del nord potrebbe essere quel tassello importante che potrebbe potrebbe far diventare la prima potenza al mondo al posto degli stati uniti cosa che sta già cercando di fare anche a livello economico per cui anche se la cina a sospeso come dice le forniture della corea del nord ha soprattutto fatto chiudere tutte le fabbriche o come si dice attività nei coreani del nord in cina come ripresce appunto ieri il giornale ha riferito anzi ecco ma come ho detto io non è importante quello che dice una persona ma quello che pensa e per cui bisognerebbe sapere cosa pensa il presidente della cena ai suoi alti dirigenti per avere un'idea di quello che stanno preparando al mondo intero comunque sia ritornando poi qua all'articola all'articolo principale della corea del nord che ha due facce quella nascosta sotterranea e quella visibile a tutti è evidente che comunque sia in questo momento la corea del nord sta vincendo la partita contro l'america per il resto bisogna solo aspettare perché come ho detto tutto imprevedibile tutto può scivolare dalle mani anche dal miglior al miglior giocatore come si dice la follia la follia è quella che sta governando il mondo e forse proprio in questo gioco della follia anche c'è sulla terra negli uomini gioca un nuovo un ruolo principale il sole con le sue tempeste magnetiche che continuano a colpire la terra e di riflesso o di conseguenza anche il cervello degli uomini e allora si capirebbe anche il significato del motivo che negli ultimi anni in molte parti del mondo la bianca neve si è diventata rosso sangue come come dico sempre solo dopo si possono capire il significato di ciò che che vedevamo prima la neve il color del sangue a prescindere dalle spiegazioni scientifiche è inquietante